ogni mese il nostro corso di apertura e gestione bar porta qui da noi i tanti ragazzi che vengono da ogni parte d'italia e che vengono a valutare a fare un corso che ha una sproccia molto menageriale quindi come si aprire come si gestisce un locale come si valuta l'apertura per le persone questo questo corso può avere un po una doppia valenza per molti partecipanti è una specie di giro di giro d'orizzonte che permetterà loro di capire i passaggi a livello burocratico finanziario di marketing che portano all'apertura di un locale quindi di un progetto futuro per molti altri invece un corso molto più stringente è un corso che ha a che fare con l'apertura di un locale che hanno già individuato che hanno già visto hanno già una location in mano e quindi a loro evitiamo spesso loro a portare con bilanci mappe fotografie elementi che possono permetterci di valutare insieme il progetto che stanno andando a concludere vedremo beh a fine corso ci prendiamo sempre un po di tempo per valutare questi progetti e nel caso specifico due ragazzi di una città di media provincia del sud italia ci hanno portato un progetto ci hanno portato soprattutto delle foto e abbiamo potuto vedere anche su google map quella che è la foto del loro progetto vediamo è una strada di un quartiere residenziale di questa città una strada che vediamo complessivamente abbastanza deserta soprattutto non ha molti negozi molte strutture commerciali il locale questo qua giù vedete questo qua sono due belle seracinesche di un locale già aperto in precedenza che poi è stato chiuso per diversi mesi e che adesso i ragazzi vorrebbero rilevare è un locale non del tutto facile è una zona appunto che non ha molto tessuto sociale per cui vuol dire che durante il giorno sarà abbastanza deserta mentre avremo abbastanza gente la sera e la mattina ora le statistiche italiane ci dicono che in questa tipologia di locali riuscire a superare i 270 300 euro al giorno di incassonetto non è facile quindi necessario riuscire a portare un messaggio diverso in questo caso quindi riuscire a essere talmente bravi da dare l'idea l'occasione agli abitanti della zona di venire da noi di venire a visitare in orario che non è più quello di servizio quindi in questo caso c'è davvero bisogno di riuscire a essere capaci di attrarre le persone la mattina come locale di servizio un locale efficiente col prezzo giusto sulla strada sul concetto giusto ma altrettanto bravi la sera offrendo invece un momento esperienziale in cui da noi si può fare si può vedere qualcosa di molto diverso di molto carino Buon lavoro